I vaccini anti-influenzali non arrivano e la Puglia è in ritardo con le somministrazioni agli utenti. La colpa sarebbe attribuibile ai ritardi della società farmaceutica Sanofi, che avrebbe dovuto fornire 1.500.000 dosi alla Regione Puglia e non ha ancora consegnato 890.000 dosi. Per questo il direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, ha denunciato il ritardo e ha chiesto ad Innova Puglia SPA in qualità di soggetto aggregatore della Regione sulla gara per la fornitura dei vaccini anti-influenzali di intraprendere con urgenza ogni azione formale e legale utile al rispetto contrattuale a tutela degli interessi della Regione Puglia e del Servizio Sanitario Regionale, nonché al risarcimento dei danni diretti o indiretti che potrebbero derivare. Infatti la società ha comunicato che per la Regione Puglia potrà reperire solo 37.000 dosi, che auspicano di riuscire a consegnare entro il mese di dicembre. Un quantitativo assolutamente irrisibile rispetto a quello pattuito, ha spiegato Montanaro. La Regione aveva chiesto un quantitativo di oltre 2 milioni di dosi per coprire il fabbisogno regionale, che avrebbe consentito ad un pugliese su due di vaccinarsi. Ma ad oggi solo un milione di dosi sono state consegnate e somministrate dai medici ai loro assistiti. Per questo il Direttore del Dipartimento Salute ha invitato in Nova Puglia ad intraprendere ogni azione per la ricerca di disponibilità delle dosi mancanti di vaccino anti-influenzale quadrivalente, sia sul mercato nazionale e internazionale, che interpellando l'altro fornitore aggiudicatario, operando in entrambe le ipotesi in danno del fornitore inadempiente. L'assenza del vaccino nelle città sta creando una incresciosa tensione sociale, ha scritto il Presidente dell'Ordine dei Medici della provincia Bat, Benedetto Del Vecchio, all'assessore alla sanità Pierluigi Lopalco. Purtroppo le evidenze tecniche sfuggono alla comprensione dei cittadini e la situazione si fa sempre più insostenibile. Inoltre molti medici sono preoccupati per i loro pazienti fragili che chiedono di essere vaccinati. Del Vecchio per questo ha chiesto allo palco un autorevole intervento chiarificatore.